è il problema. Noi abbiamo il diritto, signora stia buona per un momento, stia buona per un momento che poi le si scolle. Abbiamo il dovere di distinguere, abbiamo il dovere di distinguere proprio perché abbiamo valori e culture. Ah oh, è come avevo una zanzara dentro un bicchiere. No, no, per favore, Zucconi finisci. Finisco dicendo che io ho il dovere se mi sento di appartenere a una civiltà, a una comunità che ha dei valori più elevati di distinguere, cosa che non fanno gli estremisti. Allora io non voglio estremisti, islamisti e non voglio estremisti. Aspetti, lasci finire perché se no se parlate tutti insieme non si capisce. Quando mi sai niente da dire si fa il rumore di fondo, è un vecchio trucco. Spero che quelli che ci vedono a casa stiano godendo. No, cerchiamo di andare avanti. No, per favore, puoi finire? No, ma cerchiamo di andare avanti, scusi, c'è una questione che è imprescindibile nell'andare avanti, che è l'educazione, che è il rispetto. Io essere trattata da due personaggi come del genere, come donna, con offese personale, mi stupisco di lei, signora Guglielmo. No, infatti qui nessuno ha il diritto di offendere nessuno. Si vede che è il rispetto che viene riservata una donna. Lei è una donna di sinistra, ha fatto grandi battaglie per le donne, io guardo, sono felice per chi ti guarda da casa e che vede due esempi di maschi italiani così. Io capisco che poi fa scelte sessuali diverse, ma li comprendo. Anzi, li anche li amiro. Perché se i maschi italiani sono questi, è pazzesco.